ecco oggi facciamo il percorso alternativo ieri avevamo giurato di qua invece oggi facciamo una piccola infrazione una ventina di metri sul marciapiede chiedendo scusa agli eventuali pedoni e poi questa che è la strada che io normalmente faccio tutti i giorni poi vedremo il perché questo è un percorso che io ho studiato su google art effettivamente è quello più veloce diretto qui questo è tutto percorso diretto fino a piazza san marco senza intossicazioni di 5 minuti piazza libertà qui sta attenti ecco questo è il percorso punto incriminato dove la polizia ha fatto i verbali settimana scorsa come vedete ci sono tanti ciclisti perché è una validissima alternativa al percorso di piazza libertà credo che sia una lunghezza di tre minuti circa molti ciclisti bisogna dirlo attraversano anche col rosso questo 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 no non si può giustificare però l'uso della pista della corsia degli autobus in alternativa alla pista ciclabile a quella pista ciclabile io penso che sia una cosa che ogni cittadino che non emette un ossido di carbonio recandosi ecco recandosi al lavoro abbia il diritto di fare e invito tutti coloro che hanno ricevuto la contravvenzione a fare ricorso al giudice di pace perché effettivamente usando anche il video che ho girato ieri non si può giustificare il percorso della pista ciclabile ora qui noi potremmo anche ricongiungersi alla pista ciclabile di ieri ma come avete visto è pericolosa e molto ingombrata e allora tiriamo dritto e facciamo l'infrazione fino in fondo cioè quasi fino a piazza san marco mi auguro che il comune voglia valutare anche di rendere questo percorso compatibile anche alle biciclette perché no non penso io adesso non sto rallentando nessun autobus non credo che il problema sia così drammatico certo ci sono ciclisti più lenti questo lo spazio è tanto qui in fondo si tratta di una delle delle varie convivenze possibili in un ambito di circolazione eccoci in piazza san quasi in piazza san marco ieri ci abbiamo messo otto minuti ora io non lo so adesso ma saranno questa è la corsia farsa che un egregio ciclista si sta ostinando percorrere nonostante sia bloccata infatti vedete deve fare è stata addirittura forzata l'entrata della della pista ciclabile complimenti uno stop passiamo col giallo via giusto per dimostrare che siamo già in zona pedonale saranno passati sienno tre minuti credo